amici di youtube bentrovati ad un nuovo mini tutorial firmato fabi ambrosi.it quest'oggi vedremo come pulire un audio un po troppo rumoroso con adobe premiere pro abbiamo solo tre minuti quindi iniziamo subito cerchiamo di rimuovere il rumore di fondo dall'audio girato magari con un microfono ambientale che quindi ha assorbito molto il rumore dell'ambiente in cui abbiamo effettuato le riprese abbiamo già trattato l'argomento diverse volte nei video tutorial precedenti sia in un live trovate il link in alto a destra in questo momento se vi interessa recuperare l'argomento cliccate su quel link sia sui mini tutorial di questa di questa serie abbiamo visto come rimuovere il rumore con audition quest'oggi vediamo come fare questa stessa operazione senza però uscire da adobe premiere pro nelle ultime release di premiere 2019 e 2020 sono stati introdotti diversi tool di adobe audition che ci permettono di fare un buon lavoro in automatico sull'audio troppo rumoroso premetto non fa miracoli questo tool che sto per mostrare serve per migliorare un po la situazione la regola principale rimane sempre quella quando girate un video cercate di farlo nella maniera ottimale ok migliore possibile bene prendete questo audio questo è l'audio ambiente chiaramente non l'audio registrato con un microfono professionale è l'audio così come esce dalla mia fotocamera sicuramente non possiamo fare miracoli ve lo dico subito però ascoltate questo rumore ambiente amici ok è questo il rumore che cercheremo di quanto meno attenuare con lo strumento audio essenziale di premiere pro clicchiamo sul preset sul work area di premiere chiamata audio e verrà automaticamente aperto sulla destra questo tool dell'audio essenziale selezioniamo la clip che vogliamo cercare di migliorare indichiamo a premiere che in questo caso è un dialogo e tra le varie opzioni presenti in questo tool c'è la voce sotto la tab ripara c'è la voce riduci disturbo clicchiamo sopra lasciando invariato il valore di default e guardate questo rumore come viene attenuato l'originale era così e così viene attenuato e oggi vedremo come lavorare i file video con adobe audition bene non fa miracoli per fare un lavoro migliore occorre sicuramente utilizzare audition e vi ho detto che esistono dei tutorial su questo canale mirati ma se uno va di fretta e non è particolarmente interessato ad avere un risultato perfetto sicuramente l'audio essenziale di premiere pro fa un buon lavoro in soli tre minuti abbiamo visto come pulire un audio utilizzando dobi premiere pro sono i mini tutorial firmati fabiambrosi.it per richiederne uno su misura per voi scrivete all'indirizzo di posta elettronica tutorial chiocciola fabiambrosi.it se avete dubbi curiosità perplessità qualunque cosa c'è il sito internet www.fabiambrosi.it iscrivetevi a questo canale youtube mettete un like se avete voglia anche alla pagina fabiambrosi ciao al prossimo video